Noi andiamo sempre ovviamente per portare a casa il bottino pieno Poi è chiaro che sicuramente sarà una partita ostica perché comunque il campo è stretto E' un campo dove ho giocato tante volte, c'è sempre il vento, ci sono tutta una serie di condizioni Che però non voglio assolutamente che diventino alibi perché noi dobbiamo entrare in campo Fare la nostra prestazione col campo stretto, col campo largo, col campo lungo, col campo corto Non ci deve interessare di niente, del vento, del sole, della pioggia Noi dobbiamo entrare in campo per fare il massimo E se il nostro massimo sarà quello di portare a casa i tre punti Ovviamente saremo molto felici e faremo un bel viaggio di ritorno Quindi noi dobbiamo pensare solamente a quello e abbiamo l'obiettivo chiaro e ci stiamo avvicinando Quindi è l'ennesima opportunità che abbiamo per avvicinarci Dobbiamo chiudere la pratica in fretta perché ora stiamo bene, abbiamo entusiasmo Abbiamo delle partite difficili ma alla portata perché se noi giochiamo così possiamo fare bene con tutti Quindi secondo me le idee sono molto chiare ma bisogna portarle in campo e mantenerle tutti i giorni in testa Averle molto chiare perché senza di quello si rischia sempre di cadere Quindi solamente l'appello e l'attenzione è questa Grazie Grazie Grazie